allora tre questioni semplici sul rapporto con il movimento 5 stelle ieri ho avuto un bisticcio televisivo con un rappresentante il movimento 5 stelle in una trasmissione televisiva condotta da corrado formigli forse qualcuno di voi la può vedere e forse metterò più tardi un video della parte incriminata allora la prima questione riguarda il cosiddetto bon ton televisivo io c'ho il cappello di matrix e cioè di conduttore di un programma televisivo e con quel cappello io uso il massimo dell'educazione nei confronti di qualsiasi ospite sono educato anche con il mio peggior nemico avversario dal punto di vista ideologico che non è certo il movimento 5 stelle ma sono lasciamo perdere ma perché sono in un salotto di casa mia e penso che sia giusto se inviti una persona di non maltrattarla quando vengo invitato io invece a parlare è un altro cappello cioè quello di colui che ha qualche opinione e un'opinione ce l'ho e l'opinione ce l'ho soprattutto sul comportamento che si deve tenere e con la slide 1.0 che il movimento casaleggio ha dato ai suoi rappresentanti cioè hai attraverso i media training ha spiegato i suoi rappresentanti di fare i pacati quindi tu hai questi parlamentari che arrivano in televisione e sembrano dei piccoli churchill gente che ha combattuto contro il nazismo e che dall'alto della sua sapienza delle sue battaglie ti spiega come gira il mondo con una credibilità che appunto solo churchill può avere allora questi piccoli churchill sono e questa è la slide 1.0 sempre calmi e noi siamo sempre maleducati sì è vero siamo sempre maleducati sapete perché perché io mi sono sentito dire che sono ve lo dico esplicitamente un morto vivente da grillo quando in un comizio a febbraio del 2014 davanti a sanremo ha detto voi siete dei morti viventi fate schifo giornalisti casta servetti noi siamo dei morti viventi quando qualcuno incontra il leader di quel partito ed è successo alle comunali nel voto che ha appena dato grillo grillo ha detto levatevi dai coglioni anzi questo detto casaleggio l'ha detto quando si trattava di fare la grande manifestazione circo massimo poi i giornalisti si dovevano levare dei coglioni e poi se non ci fosse stata una copertura adeguata in televisione lui si sarebbe arrabbiato che non c'era copertura quindi si dovevano levare dei coglioni ma non troppo per non dare la copertura che loro volevano in televisione se non noi eravamo dei servetti del potere e il giornalista del giorno quello che grillo ha messo alla gogna sul suo sito e tutti gli insulti che i cameraman i fotografi i fotografi che vengono considerati dei poveracci come lui gli ha detto siete dei poveracci durante le manifestazioni che cercavano di fare delle foto grillo insomma grillo odia i giornalisti legittimo li tratta come delle merde o meglio come dei paria non riesco a capire per quale motivo soltanto perché nella slide 1.0 di davide casaleggio o della casaleggio associati gli dicono state buoni io non possa considerare questi i rappresentanti del movimento di un signore che ci dice che siamo dei morti viventi prima di entrare nella tomba io gli dico cosa ne penso e ieri ho cercato di dirlo banalmente perché vedete ci hanno spiegato il movimento 5 stelle del reddito di cittadinanza ci sono 11 paginette che loro hanno scritto e gli ha scritto la davide casaleggio e associati così funziona ma ognuno ha i suoi consulenti che cosa è il reddito di cittadinanza ho anche detto ieri che l'idea di un reddito di cittadinanza è un'idea che è nata con un nome diverso a Milton Friedman cioè uno dei miei paladini uno dei miei eroi il capo del liberismo mondiale che si era inventato un'imposta negativa sul reddito quindi io non sono contrario all'idea di tutelare le fasce più deboli l'imposta negativa sul reddito ha degli elementi simili al reddito di cittadinanza ho detto questo in televisione il punto sono i dettagli e cioè bisogna dire esattamente come non rischiare che questo reddito di cittadinanza vada a finire alle persone sbagliate e sia un disincentivo assistenziale al lavoro apriti cielo non si possono fare domande perché il piccolo Churchill l'uomo che sa tutto che fino a ieri come tutti i suoi colleghi era un disoccupato e oggi invece ha trovato il suo reddito di cittadinanza in parlamento bene questi disoccupati oggi con reddito di cittadinanza pagato da noi ci viene a spiegare che non abbiamo letto le sue 11 paginette ne abbiamo lette ma forse a parte il main camp oppure la bibbia bisogna forse poter fare delle domande a chi fa le 11 paginette le domande che mi sono permesso di fare sono uno siccome uno dei motivi per rompere l'assistenzialismo è che chiunque goda del reddito di cittadinanza non può rifiutare tre offerte di lavoro io mi sono permesso di chiedere ma in che mondo vivete voi pensate veramente che al signor x disoccupato arriveranno mai tre offerte di lavoro il che vuol dire che ci sarebbe una quantità di lavoro in circolazione che non trova uno sbocco nelle persone fenomenale altissimo e quindi se 4 sono milioni di disoccupati 3 milioni e mezzo sono disoccupati moltiplicando in maniera proprio da elementare passiamo di 6 7 8 milioni di diverse opportunità di lavoro che potrebbero arrivare e che oggi non sono esaudite dai nostri disoccupati si tratta di una minchiata bisogna trovare un modo alternativo non basta questo che peraltro è già previsto da lì i nostri centri dell'impiego poi un'altra questione quando si parla di reddito di cittadinanza loro lo scrivono a chi è circoscritto e cioè dicono che a italiani che non lavorano appunto che sono iscritti ovviamente centri dell'impiego e anche a comunitari ed extra comunitari che i cui paesi riconoscono i trattati sui diritti sociali che vuol dire quante persone potrebbero entrare l'immigrato che arriva in italia ventenne con i barconi se si iscrive al centro dell'impiego quando ottiene l'asilo politico può avere reddito di cittadinanza di fatto oggi ce l'ha perché prende dallo stato più di 780 euro previsti da reddito di cittadinanza domande legittime ma le quali i cerci non rispondono perché è sempre l'esa maestà cioè loro possono dire a noi che siamo dei morti viventi e noi non possiamo chiedere a loro perché l'abbiamo spiegato mille volte cosa vuol dire tre offerte cosa vuol dire coperture siete sicuri che sono solo 14 miliardi di euro di copertura all'anno e non molti di più domande legittime peraltro se volete anche banali perché tutti chiedono a tutti i politici come fanno a coprire i loro programmi fantasmagorici bene questo momento 5 stelle non si può fare cosa succede quando si alzano i toni con il movimento 5 stelle che arrivano i deficienti quelli che ci sono e seguiranno anche questo video che fanno i commenti porro che grande delusione ecco voglio deludervi voglio deludere quel cretino di campano come si chiama donna ruma che maschitto fai schifo se un lecchino se un servo ti prendo a calci nel sedere candidato del momento 5 stelle hanno un una forza e una violenza e una scarsità come possiamo dire di di contestazioni che rende l'idea di come questa base elettorale sia il peggio del peggio ovviamente questo vale per tanti altri partiti politici io ho visto i fan di berlusconi essere altrettanto aggressivi i fan di salvini essere altrettanto aggressivi non mi preoccupano le aggressività di quelli che arrivano sotto le mie pagine altrettanto aggressività ce l'hanno altri commentatori che la pensano diversamente me non mi scandalizza l'unica cosa che mi scandalizza e che quando mi trovo in televisione con questi churchill sembra che a questi churchill non si possa chiedere nulla e con questa faccetta educata fanno finta che loro hanno il bon ton televisivo loro quelli che sono nati grazie un grande enorme vaffanculo questo è lo slogan con cui churchill ce lo troviamo in televisione e io non gli posso fare una domanda un po accesa ciao ragazzi